Ragazzi, buon Gododay in quello che sarà il prologo di una possibile nuova serie e questa nuova serie sarà niente di meno che PAL World, mamma mia mi viene un po' da ridere per svariati motivi, a parte il gioco in sé che vabbè è un fenomeno del momento però potrebbe essere un fenomeno del momento che potrebbe avere ripercussioni positive in futuro sull'industria dei videogiochi, soprattutto per quanto riguarda i Pokémon e tutte queste cose qui questa cosa purtroppo la vedremo solo col tempo per adesso io sto registrando questo video e sono tipo 3-4 giorni che PAL World è uscito e ha distrutto tutto record su record su record su Steam non so il vostro punto di vista com'è sul fenomeno PAL World da una parte è una ventata d'aria fresca per uno come me che non gioca al mondo Pokémon da veramente tanto tempo vi dico solo che il mio ultimo gioco Pokémon, vero, è stato bianco e nero poi purtroppo li ho droppati, però l'amore per i Pokémon c'è sempre stato da ragazzino ero fissato con i Pokémon sinceramente quando è uscito quasi un meme di PAL World con stai sti Pokémon armati, schiavizzati ho detto vabbè ma mi sembra proprio un meme, non credo arriverà mai questo gioco e invece dopo anni, sono due o tre anni, è uscito PAL World in accesso anticipato su Steam e sinceramente ho detto wow lo devo provare assolutamente quindi si, proveremo PAL World, incredibile, faremo questo episodio prologo tra l'altro nella settimana in cui vedrete questo video sarà uscito anche il prologo di Elder Ring e a me viene da ridere un po', oltre per il gioco stavo dicendo prima per il fatto che ci sono periodi in cui non esce niente e periodi in cui adesso a fine gennaio io ho il DLC di Poppy Playtime e avevo appena iniziato Elder Ring e ora è uscito PAL World io sinceramente non sapevo uscisse adesso ho tutto intrecciato adesso però che dovete fare? sicuramente faremo prima un po' più priorità in capitolo 3 e poi magari portiamo avanti sia Elder Ring, almeno la prima run con Sus che non si sa quando uscirà il DLC di Elder Ring che probabilmente uscirà a febbraio quindi insomma tutto intrecciato e insieme porteremo PAL World insomma se vedo che PAL World mi attira, ci posso giocare un po' qualche episodio sporadico lo farò su PAL World anche soprattutto se è un gioco che insomma lo continuano ad aggiornare metteranno nuove palle, ora non so niente e poi mi attira molto l'idea del crafting mi fai un po' in stile Minecraft molto in virgolette che ti puoi fare la base un po' survival mi ricorda molti giochetti che ho giocato ma potrebbe essere simpatico e poi basta prometto fin quando non finirà Elder Ring e probabilmente il DLC e non finiremo il Poppy Playtime capitolo 3 non inizieremo un'altra serie perché Lice of Pia arriverà a questo punto per aprile probabilmente e niente io direi di partire e creiamoci un personaggio tra l'altro è un casino per le impostazioni perché su questo computer non riesco a mettere PAL World in maniera buona per lo schermo infatti lo sto giocando a finestra ma per voi dovrebbe essere fu schermo spero, lo scoprirò solo in editing quello che non capisco è l'audio cioè l'audio del gioco è tutto accento io non sento niente l'audio lo sento veramente basso ok ragazzi io direi di provare facciamo inizio a giocare crea un nuovo mondo ok vabbè credo sia scontato che lo chiameremo Godoverse mi pare abbastanza scontato come possiamo chiamarlo nome del mondo oddio sarei tentato di fare Godoverse TV vai facciamo Godoverse multiplayer adesso facciamo off vabbè ma io penso che il multiplayer lo posso mettere anche dopo a livello di difficoltà allora poi cambiamo difficoltà facile vabbè facile veramente normale poi abbiamo difficile ok poi abbiamo personalizzato vabbè io farei normale è anche la mia prima partita quindi farei sinceramente farei normale sono tentato sul multiplayer vabbè in caso facciamo così Godoverse offline per adesso è normale dai facciamo così per adesso in caso poi ripeto questo è l'episodio prologo magari ne creo un altro Godoverse TV e quello magari lo faccio multiplayer ok facciamo normale conferma vediamo un po' ok vabbè cambia il nome del personaggio io lo chiamerei io lo chiamerei intanto facciamo Zoel mi sembra un nome interessante ovviamente adesso creiamo il personaggio devo dire che lo stile a me piace allora corpo ah c'è il default guarda che chad è questo questo è un chaddone vabbè farei questo e lo modifichiamo un pochino facciamo 65 gambe pure volto allora oh questo è bellissimo vabbè istantaneamente questo proprio gli occhi beh minchia così sono cattivissimo vabbè questo è un po' esagerato ah questo è figlio no è bellissimo ok ok so ok ok mi piace sta venendo bene capelli forse questi colore occhi io li farei voce beh facciamo così mi sembra la voce migliore ok dai 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 ok ah quindi noi iniziamo come dei naufraghi ok siamo naufragati in quest'isola incredibile ok bello trovare la prima cosa che trovi in isola è un tablet di ultima generazione ok i tre hanno saranno la verità non ho letto non è chadd mazza dai sono uguale ah giustamente io non so i tasti ah giustamente vabbè allora ok con calma allora 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 con calma con calma con calma bi edificazione ma come si ok questo è ok mi servirebbero i tasti però impostazione le tasti ok allora graficamente posso dire che mi piace allora ottieni legno raccogliendo rami a terra sono un po' tutorial apri il menu edificazione e scegli un banco da lavoro preventivo e iniziare a costruire ok abbiamo trovato due sfere pal denaro e anima di pal piccola ok souls apri la schermata tecnologia del menu per sbloccare sfere pal io sto cioè io sto andando indietro il gioco mi ha detto di andare avanti vado indietro perché sono trasgressivo no ho appena vabbè non voglio commentare che ho appena sprecato una palla ho premuto Q va bene ok abbiamo sprecato già una palla hai trovato una nota lasciata da altri avventurieri puoi esaminare il loro itinerario dalla schermata delle opzioni vabbè ma io sto andando dalla direzione giusta boh ok ma quanto sono belli per carità io capisco che molta gente ha detto che ma vabbè prendiamo le pie prendiamo tutto capirai un survival prendiamo tutto raccoglie la legna sono fortissimo prende a pugni i legni dicevo io capisco che molta gente ha criticato questo gioco perché alcuni design di poco non sono veramente copiati però è anche vero che mi dà l'idea di un giochino divertente ripeto questo sarà molto agli sviluppatori quanto aggiornaranno il gioco con tutto quello che hanno guadagnato cioè hanno venduto veramente un botto quindi insomma sarebbe veramente insomma da persone stupidine diciamo non approfittare del successo per aggiornarlo introdurre roba insomma ok abbiamo trovato altre due sfere palle però a me vi dà l'idea di un giochino simpatico ecco noi stiamo però andando da un'altra parte cioè c'è point da un'altra parte io però volevo provare a catt... ah non possiamo scendere se scendiamo non si può risolvere vabbè ok no perché se scendo ok allora dobbiamo andare insomma ok sono curioso sono veramente curioso perché se ci pensate pure Genshin Impact io lo gioco da praticamente il day one tutti anche all'inizio dicevano ah vabbè ma ha copiato Zelda ah vabbè da apri un gaccia ah vabbè vabbè e poi di fatto siamo al terzo anno di Genshin Impact è ok è un gioco che ha problemi va bene quello che vi pare però è giocabilissimo sia al free to pay che non per dirmi no e anche Genshin Impact aveva fatto colline del vento di inizio aveva fatto il fenomeno Genshin Impact e da lì e tutti i fenomeni di chi ucciderà Genshin uscirà Woodering Waves vedremo come sarà Woodering Waves ok questo mi ricorda un po' Genshin in cui ci stanno le torri le torri dell'Harkon questi sono i tre trasporti sus mi sa immaginano però lo sai devo dire che graficamente mi piace cioè mi dà l'idea di un giochino che potrebbe divertirmi parecchio poi non so mi preoccupa un pochino ok livello 2 mi preoccupa un po' di come proporvi il gioco perché mi dà l'idea di un gioco che dovrò tagliare parecchio ai fiori non li posso posso parlare oh buona hai fatto una frase tanto che non incontro qualcuno con odora di palle ok vabbè che odora di palle vabbè lasciamo perdere questo luogo in inferno si è presi i miei compagni sono stati tutti ma stati da palle selvagli dovevi fare molta attenzione condividere con te un po' di risorse poi se provvedere devi diventare più forte ma poi scopriamo io non avevo capito che era in italiano un gioco io pensavo fosse in inglese ma posso parlare con lei ancora? non ce la faccio più all'inizio ho provato a costruire il tomba per tutti addirittura un momento hai con te un dispositivo dell'antica civiltà con quello dovevi segnare delle sfere palle con quelle sfere dovevi catturare i palle ah ok quindi l'or è incredibile quindi l'or non riuscirono a catturarli noi in qualche modo abbiamo qualcosa della vecchia il tablet della vecchia popolazione sapeva addestrare i palle era sempre la soffita e addestra palle per se lui si sferde per la catturare i palle lo sarebbe in battaglia più palle catturi più alto si può rielo crescere ma avvicinate a quella torre finché non sarei abbastanza forte beh non posso immaginare bossi è dal malvagio sindacato di rain va bene se vai lì ti farei ammazzare proprio come è successo ai miei compagni ah ok quindi la torre qual è? quella laggiù forse legno ok allora questo sarà il nostro primo checkpoint mi sa allora B apri il menu edificazione con me e scegli banco da lavoro ok allora vai lo mettiamo qua edificazione ok pure storto però vabbè facciamo bene apri la schermata tecnologia dal menu per sbloccare le sfere palle ah ok posso fare ma è un pollo che carino un polletto va bene ok torcia vabbè facciamo la mazza inizia la produzione F facciamoci una mazza va intanto ok abbiamo una mazza apri la schermata tecnologia per sbloccare le sfere palle come si fa sta roba ah ok ok questo è l'inventario ah c'è pure il pace giustamente un survival potenza statistiche ah ok abbiamo ah bella domanda che faccio? forse ti direi punti vita adesso punti vita potenziabile consumando i punti ok vabbè tecnologia tecnologia ah ok abbiamo pure i punti ah ok quindi vabbè io questo sblocchiamo e direi una struttura dove tenere sotto custodia i pall vabbè io sbloccherei tutto no? possiamo abbiamo cinque punti buono in cinque ma no che dolcezza ah ne ho visto un altro che ho visto? vabbè cioè sì ok posso capire perché hanno detto che il design assomiglia ai pokemon realizza una sfera pall va bene ottieni oggetto oh yeah baby abbiamo la mazza va bene allora dobbiamo creare una sfera pall che ci serve? frammento di pallium e dove lo trovo il frammento di pallium? indebolisci i pall attaccati con cu ah ma come si lanciano le sfere pall? questo mi dà l'idea di super forte quanti sono i pall? 111 gilda vabbè direi che per adesso la gilda può aspettare ok si va a caccia va baby non so che catturare sinceramente penso vada bene qualsiasi cosa all'inizio quindi tra l'altro tra un po' ho anche fame oddio ma F non era F no ma com'è ma no capirei ho una una mira vabbè ma è tutto dolcissimo no ti prego vieni ma è star già per morire soffice scudo no la posso usare come scudo no ah ma quindi ognuno ha i suoi vabbè ma che figata allora aspetta 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 ma sta per morire già no ma è bellissimo quindi lei la posso usare come scudo di lana allora raccogliamo un attimo le bacche perché allora prendiamo un po' di legno no è tutto è tutto incredibile posso prendere pure la roccia allora qui ci sono dei polli quello che è no oddio vorrei catturare tutto oddio questo che è no questo non si rompe dai l'acqua pure è fatta bene dai questo cos'è ok ah siamo già a livello 3 oddio ah per un attimo pensavo di essere morto perché non sa nuotare ok no ah ok si può rampicare beh è meglio di tanti altri giochi allora abbiamo dei polli io prenderei un pollo è cattivissimo posso catturarlo no ormai è andato bene non sono riuscito a prenderlo vabbè ma è livello 1 posso prendere il pollo ok abbiamo catturato un pollo e questo? ah è morto ma c'è il ragdoll quindi no vabbè ma che figata c'è il ragdoll ciao pollo no polletto vai torna alla natura è morto oh mamma mia ok ok mi sta piacendo ok allora torniamo un attimo alla base devo un attimo capire come si mangia intanto ma soprattutto mi preoccupa come faccio le sfere pall quello che livello sarà ecco quello io lo lascerei tra qualche episodio direi livello 16 minchia quello lasciamo là ah ma ah ok gli è tornata la vita ok quindi le suscitano no le suscitano insomma si rigenerano da sole me ne stavo preoccupato ma posso dargli un nome? no non mi salta ok ok e questa catturiamola un'altra subito wow oh yeah baby è questo? ma tutto a salegno? queste risorse incredibili me le droppano loro? scusate ragazzi se mi vedete sono un po' confuso però devo tornare qua? vabbè questo è lo spostamento rapido ok un piccone ci servirebbe assolutamente che cosa? oh l'ho messa a lavorare ma dai no ma che dolcezza no ti prego ma se è dolcissima posso rinominarli? no allora 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 con molta gama qui allora io mi aumenterei la resistenza forse io farei un punto a resistenza e un punto a peso totale intanto tecnologia abbiamo 12 punti arco vabbè subito frecce subito letto dove possiamo dormire va bene letto per i pall ok kit di riparazione io faccio tutto una lancia di pietra scudo ha pure lo scudo questo magari mi sa di il cibo per i pall e un abito ok blocca i pall che passano sopra non vuole trappole pure no ma che dolcezza enciclopedia vabbè sì ho capito questo non non elementare ah ok è tipo normale no vabbè ma tutte le stats no vabbè raga ok you have my attention loro possono dropparti lana e carne e loro uovo understandable questo mi va bene ok edificazione possiamo fare questo no ci servono due pietre ah ok possiamo fare questo ci serve forziere di legno intanto mettiamo tutto un po' così a caso perché mettiamolo qua no vabbè ma questa è troppo carina no dai ma che dolcezza cioè che dolcezza tecnicamente la sto schiavizzando però va bene ok ottimo posso dire che le animazioni sono veramente adorabili io lo posso dire lo dico le animazioni sono veramente carine cibo ecco avrei bisogno di cibo in realtà ok poi infrastrutture letto ci serve una marea di roba mamma mia edificazione vabbè adesso la casa è l'ultimo dei nostri problemi allora a me serve cibo ah ma abbiamo della carne non le posso rinominare ok lei velocità divina incremento velocità 30% ok stabilità mentale ok lamba modifica allora lei la chiameremo materasso materasso sarà speciale seleziona forza lei sarà materasso no aspetta no sto morendo di freddo aspetta aspetta oh buona vicino al fuoco ok sto morendo di freddo lui lo chiameremo petto ok questi mi sembrano nomi importanti ok petto e materasso lei vabbè quando morirà materasso avremo materasso 2 hai fame e ho capito ma come mangio ah vabbè funziona ok ok dobbiamo farci una una torcia vediamo un po' altrimenti torcia portatile inizia la produzione ah mi viene a dare una mano ok ma come è contenta questa volta è fantastica ok però non abbiamo sfere palla adesso giusto o ce ne abbiamo ancora ne abbiamo 2 ok allora di notte chissà che ci sono ma non è figo di notte di notte ci saranno altre creature mistiche vabbè abbiamo materasso che ci gira attorno che è fantastico no materasso no qui non c'è niente ok io ne approfitterei a prendere un po' di legna no magari no vabbè con la torcia eviterei ha pure la fibra ok fibra da legno roccia vediamo un po' se riusciamo a prendere un po' di roccia col piccone ah frammento di palle ok quindi si prende da questi per fare le palle ci servono questi frammenti che si prendono da questo dalle rocce molto bene questa cosa molto molto bene ovviamente questo adesso è il primo episodio va bene ma queste sono cose che poi vi taglierò nei video perché non penso che interessi a tanti vedere che sto distruggendo un minerale allora per adesso mi sta divertendo più del previsto e non l'ho combinato praticamente niente sono intanto abbiamo catturato un materasso ok ogni cosa ci dà esperienza molto bene ah ok stiamo per raggiungere il peso massimo trasportabile ok ok perfetto ok andiamo direi di correre ah ok se sono pesante non posso correre vabbè va bene understandable ok andiamo in fattolo ok allora io direi di costruire qualche cosina allora vabbè lascio aspettiamo un attimo allora possiamo costruire un po' di palle pure ok aspetta allora 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 con calma con calma con calma allora prima cosa ci serve il fuoco e lo mettiamo qua costruiamo questo sicuramente perché così ci scaldiamo ok poi risorse insufficienti ah mannaggia vorrei fare un letto per il letto però ci serve altra legna ok possiamo fare qualcos'altro di utile box dei pall e lo mettiamo qua tanto provvisoriamente poi io penso che le cose si possono spostare ma non posso mettere non me lo fa mettere vai ehi tu che vuoi no oh 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 è quello che vi è vi è da solo no dai non mi ammazzare sono appena arrivato sono appena arrivato dai fratello ecco grazie però mi dà l'idea di essere un po' fortino quello costruisci il box per pagare uno spazio adeguato nel punto in cui lo costruisci sorge la tua base aaa ecco questo come punto base allora possizioni possizioni di sicurezza ah addirittura il sistema vabbè certo ti devi fare una ruba abbiamo una pal verde sfera mega questa ce la teniamo per qualcosa di un po' più arduo ok ci serve la legna per fare questo mi sta divertendo più del previsto meno male che i pezzettini per creare le sfere palle si creano subito perché altrimenti era un dramma mettiamo qua ok ok io metterei per adesso quest'altro materasso due dentro ah ok pure lui spostamento rapido va bene cattura cinque lambare per ottenere i punti ok cattura trenta pall ok va bene materasso rimani qua i pall senza letto saranno scontenti e ho capito però il letto lo devo fare mi servono altre legna devo imparare i tasti l'inizio sarà un dramma perché i tasti proprio materasso tutto bene vabbè materasso non vuole collaborare mi sta aiutando questa lamba qui materasso niente materasso non 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 vuole partecipare va bene allora la situazione sarà veramente nuca volevo catturare un altro pall io direi che come episodio prologo è andato meglio del previsto ah questo è il pall ah eccolo è lui ok quindi non si droppa ma si prende anche ah l'ho finito come è possibile l'ho finito avevo avevo delle sfere palla ne ho sette perché non me le fa ma non me le fa pre... no sono confuso cioè li ho sterminati ma io volevo catturarli non mi fa non capisco vabbè ragazzi io direi che per questo primo episodio vabbè però facciamo una cosa attendiamoci materasso aspetta allora materasso ce la mettiamo in squadra e questa qui adesso la lasciamo qua materasso e petto ce li portiamo con noi ahhh perché tutto bene tu non capisco perché mi si mettono appese lì io direi che dal primo episodio di questo pazzesco primo episodio prologo possiamo finire qui noi ci vediamo nel prossimo episodio saremo messi un minimo meglio avrò portato tutto quanto giù e probabilmente lì sotto creeremo la nostra base e niente da materasso e da pollo e dal nostro eroe nudo ancora perché non ho quanto ancora vestiti mi sto divertendo più del previsto infatti sto a più di un'ora di registrazione vi dico solo questo quindi niente ragazzi che il godo sia con voi e ci vediamo probabilmente nel primo episodio con alcune cosine fatte perché insomma la parte di crafting ve la salta sicuramente andiamo avanti insieme però almeno sposterò tutto quanto lì e vi racconterò che è successo probabilmente Palward noi lo rivedremo appena sarà finito Poppy Playtime capitolo 3 è uscito il prologo di Elder Ring e di Palward che volevo fare uscire prima dell'inizio del terzo capitolo di Poppy Playtime poi faremo tutto il Poppy Playtime capitolo 3 faremo l'episodio extra concluderemo Poppy Playtime e poi torneranno gli episodi uno di Elder Ring e uno di Palward a settimana nel mentre usciranno anche tutti gli altri video insomma più o meno questa sarà la cosa poi ovviamente se vedo che il DLC di Elder Ring uscirà per febbraio allora accelereremo qua il Der Ring perché vorrei avere almeno un personaggio pronto per affrontare il DLC e poi Palward insomma se Palward va bene lo posso portare sempre insomma sarà la prima serie lunga sul canale alla Genshin per dire che insomma se va bene insomma ragazzi io vi saluto che cosa siamo voi ci vediamo alla prossima puntata grazie a tutti Grazie a tutti.